Seconda giornata di fase Champions League Super Cup, White Wolves contro FC Diablos. Grande, grandi, grandi, bravi ragazzi. Caspettino, la fase finale si è svegliato finalmente il White Wolves dopo un campionato al... Vabbè, non ne spiegiamo commenti, siamo salvati quasi per miracoli, ora sono primi in classifica del loro girore della fase finale. Vediamo un po' qua la telecronica, i White Wolves sono in contropiede, Nicolò sbaglia un piccolo controllo centrocampo, ma è ripesso laterale per i White Wolves. Si mi vuole forse non in forma oggi. Sì, sì, mi sono organizzato pure i ragazzi, ce l'ho detto a tutti cosa devo dire. Ah, lì, sì, e io ho detto a capo. Ciro, posso fare questo? Tu lo parlo con Gioio, ma scusami Ciro. Capisci che... Io comunque che il calciotto te lo pago, non le calciote lo pago. Sì, però no, era... È un qualcosa, per Giovanni di Giro l'ho fatto. No, se ne volevano andare. Posso parlare? Ce lo so che vuoi dire, faccio... No, il recupero ti giocavi qua. Ah, io quando ne la pagavi proprio? Lo sapevi, pensavi che c'erciò questo? No. Vabbè, questo momento potremmo pure farlo dopo, no? Sì, vabbè. Palla, si trova. Si sta, si sta, si sta, stai calma. Pena perdi il pallone. Palla. Oh, questa è la posizione di Pizzone. Ma tu sei l'ho io? Io vado a dire trovarlo. Pizzone, oh, c'è l'ho, 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 c'è l'ho. Pizzone, calma, 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 calma. Lo conosco, lo conosco. No, perché gli ha detto che faccio così, tre pappine, così, eh. Sì, lo conosco, lo conosco. Alla tottica, capito? Stanno spuntendo gli amici. E' bello quel tifuso. Uh, possono aver colpito, per cazzo. E' più leggero del pallone, se. E' il vento con la puttola della hook. Io per il collegamento ringraziamo tutti i ragazzi da Supercapo. Un saluto a Max e Sergio. Ciao ragazzi.